Chi sei? Gianluca Giuseppe, 43 anni Ludovica Capodanno, curato, le ho 28 anni Il tuo lavoro attuale? Giornalista del territorio turistico Sono un'organizzatrice di eventi Descriviti con tre parole Tenace, disponibile e trasparente Sono solare, audiziosa e indeterminata Cosa rappresentano le olie per te? Per me le olie sono la mia terra, il posto dove sono nato Per me le isole olie sono la mia casa e il luogo in cui torno tanto quando voglio stare bene Iscrivi le olie adesso Nel barro In completo degrado e con sfiducia verso l'amministrazione Iscrivi le olie con Anna Rita Gugliotta sindaco Ma sicuramente delle isole convivibili e soprattutto delle isole tutte uguali sullo stesso piano Dove la voce della gente possa arrivare direttamente al cuore dell'amministrazione Ma Anna Rita Gugliotta sarà il sindaco di un arcipelago e avrà la stessa attenzione per ogni singola isola Ma sicuramente delle isole che vivi e soprattutto dopo delle isole dove... Anna Rita Gugliotta la vedo come il sindaco delle olie in cui tutte le isole abbiano la stessa... no scusate... vedo... Grazie 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 Grazie